Ecco qua termine primo tempo a Montarone, a Fragolese 1, Montaronese 0, gol di carotenuto, partiamo subito con il nostro speciale tifosi. Vai! Forza Fragolese! Ecco qua siamo in intervallo Montarone-Fragolese, stiamo con un tifoso, come richiami? Renato. Renato, come la vede oggi la Fragolese? Sicuramente è una partita che la Fragolese sta disputando in modo ottimale e sta meritando sicuramente il vantaggio, poteva essere anche di più di 1-0 diciamo in questo primo tempo. Oggi anche se giochiamo di sabato tantissima gente. Sì, abbiamo visto qua, la tribuna è quasi piena, siamo felici di vedere sicuramente tanti a Fragolese qua a Montarone. Forza Fragolese? Forza Fragolese sempre! E un saluto a Sport Event! Un saluto a Sport Event! Ecco qua, l'orto scosto avevamo Vincenzo Lamanna, oggi abbiamo qua a Montarone un'altra bandiera storica del calcio a Fragolese, ne ha fatto chilometri sulla fascia sinistra, abbiamo con noi il grande Michele Massaro. Ciao Michele! Ciao, ciao Peppe! Salute a tutti i tifosi della Fragolese! È un piacere quest'anno seguire questa Fragolese, veramente sono rimasto molto contento dall'atteggiamento della società, che vedo una società concreta, sicura di sé e vogliosa di tornare ai tempi fatidici del signor Palladino, la Fragolese, la grande Fragolese della Serie C. E credo che quest'anno penso che ce la faremo, sono convinto che ce la faremo. Anche se oggi è un sabato pomeriggio, qua a Montarone, c'è tanta gente della Fragola. Ma la Fragolese è stata sempre eseguita, è stata sempre amata, un pubblico eccezionale. Io non dimenticherò mai i nuovi anni di Fragola, un pubblico stupendo. E ancora oggi, vedi, le amicizie che c'è, la gente che ti saluta, è un piacere. È un piacere, comunque, ve l'ho detto, dopo tanti anni di pallone, la Fragolese mi è rimasta nel cuore. E auguro tanto di arrivare alla Serie C, tranquillamente. La città di 70.000 abitanti, vediamo anche in Fragola, si parla spesso della vecchia Fragolese, Michele Massaro, Nicanto della Vedua, Vincenzo Lamanna, Guido Veglia, davvero grande, grande emozione. È come se giocasse una squadra di Serie A, di Serie B, la Fragola, grazie importante. Sì, ma eravamo un gruppo speciale, molto di là di questi ragazzi che ci sono adesso. Noi eravamo un gruppo particolare, senza offendere a questi che ci sono adesso. Però noi, non lo so, eravamo una famiglia col Presidente, con la signora. Eravamo a prova, ma io, dillo la verità, io te l'ho detto, sono convinto e sono sicuro che quest'anno si farà una grande squadra, da Fragola si farà una grande cosa da Fragola. Ecco qua, siamo un atto di voce della Fragolese, Gianni, si chiama Gianni. Gianni, come la vedo oggi la Fragolese? È stato rispondendo un'ottima partita, siamo una grande squadra e sicuramente andremo in un'altra categoria. Quindi ci credete alla Fragola che la Fragolese ritornerà ai farsi di una volta? Sicuramente, con questa squadra meritiamo molto di più. Visto tanto pubblico anche oggi qua a Mondragone, dicevo anche prima. Sì, ci siamo molti diffusi qui a Mondragone oggi e spero che questa società rimanga sempre solida e combatta anche per gli anni successivi. Grazie Gianni. LNC, forza Fragolese. Sempre. Forza Fragolese! Ho detto stamattina, l'ho pronunciato sulle pagine di Facebook, da oggi comincerà il mio V-parlè sullo stadio di Fragola, è Luigi Moccia. Purtroppo vedete tanta gente oggi a Mondragone, è la Fragolese una società solida, una società che da anni non ci vedeva, una società che sta investendo quattrini. Io non ho capito, com'è possibile che lo stadio Fragola sia ancora il tuo femma? Caro sindaco Tuccillo, ma queste cose non vanno. Vedete il campo di Mondragone, qua siamo a Mondragone. Attenzione, non è l'offendata la città di Mondragone perché è la grandissima città barneale. Però vedete, lo stadio è già diverso, due tribune aperte. Ma dico io, come dobbiamo fare che lo stadio non ci sta? Noi vogliamo lo stadio, lo vogliamo tutti quanti. È vero che vogliamo! Hai capito? Allora, carissima destra, carissima sinistra, carissimo centro, eccetera, eccetera, quante stelle e cinque stelle, ora un baldo! Voi direte, lo stadio da è! Arrivederci e tanti saluti e forza Fragolese, voi non siete Fragolese! E oggi parte il mio voto, a Fragola non sei tu, destra e sinistra una finestra!